I due democratici guardano con attenzione i grillini che ne condividono l'impostazione. Nel valutare le riforme costituzionali, quando mai arriverà un testo in Commissione, il Movimento 5 Stelle si baserà su tre principi fondamentali. Primo, non svuotare il Parlamento della funzione legislativa. Due, far sì che chi legiferi sia eletto dai cittadini. E tre, il più importante, coinvolgere i cittadini nel processo di revisione costituzionale.